Oggi vado a fare un video su un prodotto che ho acquistato qualche giorno fa nella live, mentre c'era la live della Xiaomi per il festival della primavera mi sembra che si chiami una cosa del genere e in quell'occasione facevano delle grandissime promozioni quindi andiamo a vedere insieme il prodotto che ho acquistato Allora ho acquistato il Mi 11 Lite Eccolo qui Andiamo a fare un unboxing insieme quindi lo apriamo e vediamo cosa si danno in dotazione e com'è il cellulare La confezione è molto carina, tutta bianca Allora qui abbiamo la forcellina quella per la sim Le varie istruzioni e foglie di garanzia Questo qui è la classica cover in silicone trasparente che la Xiaomi dà con tutti i suoi cellulari Eccolo qui Questo è il cellulare Io l'ho preso blu Trasformatore Il cavetto per la ricarica Con USB e USB di tipo C Quindi abbiamo l'USB quella nuova Eccolo qui Infatti cercavo cercavo Ora vi spiego Che avevo già Sentito che lo davano in dotazione Praticamente questo qui è il L'adattatore per il pin jack del Del microfono Dell'auricolare Perché praticamente come tutti i modelli che stanno uscendo adesso Sta andando a sparire l'auricolare E però ci danno Non c'è il jack Però ci danno l'adattatore Così possiamo utilizzare anche le Classiche cuffiettine con Con il jack Dare le prime sensazioni appena si prende in mano questo telefono Allora la prima cosa che Mi fa piacere Percepire è la leggerezza Parliamo di un cellulare che è estremamente Leggero 158 grammi Calcolate che non è poi un cellulare piccolissimo Quindi ha belle dimensioni Quindi è piacevole sentirlo così leggero Poi l'altra cosa che viene subito Che attira subito l'attenzione è lo spessore Allora guardate Lo spessore È solamente 6,81 Millimetri Quindi abbiamo detto 158 grammi E 6,81 L'altra cosa che esce un pochettino fuori Dai classici Sblocchi frontali È lo sblocco Quindi attiva e disattiva il display di lato Ma con l'impronta digitale Vedete E vi devo dire che Provandolo Ma non sbaglia praticamente quasi mai Ha una precisione favolosa E basta praticamente poggiare il pollice O l'impronta digitale che si vuole configurare In questo tasto Su questo tasto E lui in automatico Vedete così lo blocco Aspettate vi faccio vedere Appoggio il dito Lack E si sblocca Vedete Non devo premere il pulsante Premo il pulsante per bloccare Premo Per sbloccare Basta passarlo sopra E lui in automatico Legge l'impronta digitale Lo sblocca Quindi questa è un'altra cosa Che mi ha fatto molto piacere Il display Un bel display Una buona luminosità È un AMOLED Full HD Quindi ha una buona risoluzione È piacevole 6,55 di dimensioni E arriva fino a 90 Hz Il vetro È un Gorilla Glass 5 Quindi un'ottima resistenza E per quanto riguarda invece le telecamere Abbiamo tre telecamere dietro Eccole qui Quindi abbiamo le tre telecamere E la luce O il flash E nella parte frontale Abbiamo la classica telecamera Da selfie La principale Poi abbiamo una macro E poi abbiamo una Grande angolare E poi la camera frontale La selfie La classica telecamera frontale Da selfie Possiamo innanzitutto Vi volevo far notare anche Che possiamo fare dei filmati Fino a 4K Abbiamo la telecamera principale Da 64 megapixel La grande angolare Da 8 megapixel E la macro Da 5 megapixel Per quanto riguarda la camera selfie Quella che abbiamo frontale A 20 megapixel Niente male Sia per quanto riguarda le foto Che per quanto riguarda i video Fa bei video Belle immagini Fatica un pochettino la notte Quindi nelle foto notturne Però niente male Io l'ho detto È un ottimo compromesso Tra il prezzo E il prodotto Quindi a me piace molto Questo cellulare Possiamo fare una ricarica Fino a 33 watt Quindi ha una fast charge Quindi ha anche una carica veloce Per quanto riguarda la sim La slot della sim Qui abbiamo lo sportellino Che si va a aprire con la forcellina E abbiamo la possibilità Di mettere due sim Oppure una sim E un SD Per l'espansione della memoria Quindi anche quello È molto comodo La Xion Min Oltre a dare Che fa sempre molto piacere Perché ormai non tutti lo fanno Il foderino trasparente Ti danno anche l'adattatore Già per usare Eventualmente le vecchie cuffiettine Quelle con i jack Quindi apprezzate molto Questa attenzione Per poi dare la possibilità Di visualizzare Anche gli accessori Che uno già ha in casa Poi esteticamente Vabbè vi dicevo Che a me piace molto Quindi è una bella estetica La telecamera Come potete vedere Sporge veramente poco Il pacchetto telecamere dietro Quindi è Fatto bene anche quello L'unica cosa Che volevo farvi notare È che il dietro E la parte laterale Sono in plastica Quindi prima Su parecchi cellulari La Xion Min Lo faceva dietro Come la Samsung In vetro Invece adesso è in plastica Una buona plastica Anche un Mantiene molto bene Lo sporco Quindi le impronte digitali Che di solito Vengono molto facilmente Su questo tipo di plastica Per come è stata trattata Non Le nasconde abbastanza bene Quindi piacevole E piacevole un po' Sul tutto ragazzi È Un cellulare Che sono rimasto Piacevolmente sorpreso Ve lo consiglio Questo è il modello Quello 4G Poi c'è Il modello 5G Che è ancora più prestante Però già con questo È un ottimo compromesso Tutto qui Spero che questo video Vi sia piaciuto Ho scoperto una cosa Che volevo farvi notare Il 97% Delle persone Che guardano i miei video Non sono iscritti Quindi se stai guardando Questo video Clicca Iscriviti al canale A te non costa nulla È gratuito A me aiuti Aiuti molto È tutto qui Se avete dei dubbi O bisogno di qualche chiarimento Lasciatemi un commento O cerco di rispondervi volentieri Grazie 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 Grazie